Siamo ritornati in diretta e grazie al prezioso supporto della regia di Giulio Russo e Luigi Martino abbiamo stabilito il collegamento con il nostro primo ospite di oggi che è il professore ordinario di filosofia del diritto presso l'Università della Campagna Luigi Van Vitelli, il professor Ferdinando Menga. Ciao Ferdinando, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accettato e per il fatto che stamattina ci dedichi qualche minuto per parlare di questa notizia che cade proprio oggi, venerdì 10 febbraio, esce con il Corriere della sera, il tuo saggio, la cura. Un titolo molto bello che vediamo in questo momento tutto schermo, su questo sfondo giallo e arancio, questa parola così bella, importante, a volte un po' sottovalutata. Però lascio a te il compito di presentarci questo saggio che non è assolutamente il tuo primo scritto, per cui prof, ti chiederei di raccontarci la genesi, come nasce questo saggio e il perché l'hai scritto. Sì, grazie per avermi dato la parola. Allora, questo saggio nasce perché sono stato appunto invitato dai direttori scientifici della collana Le parole della filosofia del Corriere della Sera ad occuparmi di questo tema nell'arco appunto di diverse uscite di parole fondamentali della filosofia. Mi è stato affidato il tema cura perché, diciamo, di questo mi sono occupato per un po' di tempo. La cura è un tema fondamentale, appunto una parola fondamentale della filosofia perché la cura che cosa è? La cura è un elemento fondativo, costitutivo delle nostre esistenze. In fondo, se ci pensiamo, noi diventiamo ciò che siamo e lungo l'arco della nostra vita siamo ciò che siamo soltanto perché qualcuno ha prestato cura a noi e noi prestiamo cura ad altri, dall'infanzia fino alla tardetà. Quindi per vivere una vita degna di essere vissuta è necessario questo elemento, questa pratica della cura, di una cura condivisa. Tra l'altro, tra le parole molto preziose di questo tuo scritto, a un certo punto accompagni questa riflessione che hai appena fatto con la considerazione che ognuno di noi è divenuto ciò che è solo attraverso un percorso che l'ha visto soggetto oggetto di cura o di una mancanza di essa? Certo, certo, perché noi nella nostra vita in fondo riusciamo o falliamo attraverso un confronto con la nostra storia di cura? Quante persone in fondo riescono a, diciamo, venire a diventare qualcosa o a realizzare un sogno soltanto perché c'è stato un supporto? O paradossalmente, e questo è interessante, proprio perché la voglia di riscatto nasce da che cosa? Da una mancanza di cura che però dà, per così dire, la stura, lo sprone a riuscire nella vita. Quindi la cura in un modo o in un altro, sia che sia in termini positivi, sia che sia difettiva, ha sempre un impatto sulle nostre vite. Certamente la versione propositiva della cura è quella da preferirsi rispetto a quella difettiva, cioè di una mancanza di cura. Sono d'accordo con te, come potrei non esserlo. Dicevamo, questa è una parola molto bella, ricca di significati, eppure tu stesso poi nel tuo scritto a un certo punto ci fai riflettere su come, nonostante sia un valore fondante della nostra società, in qualche modo la cura sia un fenomeno che viene occultato a volte. Sì, questo in fondo costituisce la riflessione portante del testo, perché il tratto costitutivo della cura nella nostra cultura e nello sviluppo tradizionale della nostra società, nonostante come abbiamo visto importante, fondamentale e trasversale per le nostre esistenze, è stato continuamente relegato in un ambito marginale. Laddove invece i grandi temi della nostra società, dello spazio pubblico, della grande politica, sono sempre stati altri. E allora io, è come se potessi lanciare questo messaggio, ma non soltanto io, anche altri autori, che in fondo nella nostra cultura, nella nostra tradizione, non ci siamo mai davvero curati del fenomeno della cura. Ma perché questo? Qual è la ragione al fondo di questa contraddizione tra questo aspetto così fondamentale e capillare, eppure una mancanza di attenzione sociale e pubblica per questo tema? La ragione di questa marginalizzazione o occultamento della cura, come appunto dici tu, sta proprio secondo me in un aspetto fondamentale, che riconoscere appieno la cura e dunque riconoscere la vulnerabilità e la necessità di ricorrere ad un aiuto degli altri, implica che cosa? Implica riconoscere questa vulnerabilità ed interdipendenza, cioè la necessità di dipendere gli uni dagli altri al fondo delle nostre esistenze, che però fa, per così dire, contrasto con quella che invece è la logica dominante delle nostre società. E qual è la logica che domina la nostra società? È una logica che in qualche modo celebra un soggetto delle persone forti, capaci, produttrici e produttive, appunto persone, soggetti che rispondono alle logiche capitalistiche, alle logiche di mercato. Capite bene che in una società impostata su una logica tendenzialmente che celebra la produzione, l'accrescimento e il consumo, la vulnerabilità e la necessità di essere interdipendenti e in qualche modo fa contrasto, non la può accettare questa logica. E allora che cosa accade? Accade che bisogna necessariamente relegare, occultare, opacizzare questo aspetto fondamentale. Però il prezzo da pagare è altissimo. Perché è altissimo? Perché questa rimozione della cura e della vulnerabilità è la rimozione di un elemento fondamentale. Allora, quello che accade è che questo elemento che viene rimosso, siccome è importante, poi riaffiora e riaffiora in modo critico. E dov'è che questo essere riaffiorato lo abbiamo percepito in modo così critico durante la pandemia? La pandemia è stato in fondo l'esempio lampante di quanto noi, pensando di essere soltanto soggetti forti, tecnologicamente avanzati, padroni del mondo, abbiamo dimenticato questo aspetto della vulnerabilità condivisa e della cura e ci siamo poi trovati improvvisamente impreparati di fronte a che cosa? Al momento in cui ci siamo tutti scoperti vulnerabili e necessitanti una cura. Però a quel punto l'impreparazione era davvero lampante e dunque siamo ricorsi, per così dire, abbiamo inseguito una possibilità di trovare una cura in un impianto sociale che però a questo non aveva mai largamente prestato attenzione. E dunque ecco che ciò che abbiamo ricacciato dalla porta c'è tornato, come si dice nel famoso detto, dalla finestra. E noi ci auguriamo che tanto la pandemia ma quanto soprattutto il tuo saggio ci aiutino a riflettere su tutto quello di cui ci hai appena parlato, perché ne abbiamo percepito subito l'importanza. Per cui carissimo Prof ti ringrazio ancora per essere stato con noi stamattina, per aver condiviso questi temi, queste riflessioni. Invitiamo i nostri telespettatori a recuperare il tuo saggio che esce proprio oggi, lo dicevamo in apertura, come inserto con il Corriere della Sera. Per cui Prof ti auguriamo un buon proseguimento di giornata e magari speriamo di ritrovarti presto anche nei nostri studi e continuare a parlare di temi così belli e importanti come quello della cura. Sono io che ringrazio voi e ringrazio le telespettatrici e i telespettatori. Alla prossima spero. Buon proseguimento di giornata a te Prof e buon proseguimento ai nostri telespettatori che invitiamo a non andare via. Noi ci fermiamo soltanto qualche altro istante. Poi Nicola Morcavallo torna in studio per gli aggiornamenti.